Le lezioni di anatomia sono notoriamente tra quelle più ostiche per gli studenti di medicina, per gli ostacoli psicologici e fisici di dover studiare su corpi di donatori. La tecnologia digitale contribuisce a superare questi ostacoli con il tavolo anatomico virtuale, un mega computer che al proprio interno contiene i dati digitalizzati di quattro corpi umani che il docente può rotare, ingrandire o anche sezionare virtualmente, mentre gli studenti seguono la lezione in aula. Lezioni, passaggi e anche sezioni che si possono ripetere innumerevoli volte. Il tavolo anatomico virtuale in dotazione al centro di simulazione medica e di addestramento avanzato dell'Università di Trieste è anche un ecografo digitale, come ci spiega la docente ordinaria di anatomia presso l'Università di Trieste, Vanessa Nicolini. L'ecografia digitale a scopo didattico, come la utilizziamo in questo centro, abbina le immagini normali simulate all'immagine in ecografia e la possibilità anche di analizzare aspetti patologici e che è una buona palestra per gli studenti perché chiaramente vedono le differenze fra il mare e la patologia. Il centro di simulazione medica è tra i primi in Italia a essere dotato anche della realtà aumentata che consente di effettuare in 3D le analisi settorie di un corpo. È possibile analizzare diverse sequenze di imaging, dalla risonanza magnetica alla TAC alle X-ray e anche alla compatazione 3D di tutte queste immagini in un unico volume.